Una giornata, quella di oggi, 27 giugno, tristemente caratterizzata da una scia di drammi. Il primo è venuto in spiaggia a Marina di Ravenna dove una donna è stata colta da un infarto, un altro in Darsena, nelle cui acque è stato trovato il cadavere di un anziano ed infine nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, una signora si è lanciata nel vuoto saltando dalla finestra di un ambulatorio medico all'ottavo piano di un palazzo di Viale Randi.